Quello che stiamo facendo è un'idea che vogliamo dare al governo per tanti motivi. Prima è quello che diceva Mary prima, i ristori non ne parlano più, ormai sono quasi due mesi, i ristori non ce ne sono più, credito d'imposta, quindi il 60% di risparmio sull'affitto non se ne parla più. L'idea è questa, facendo i conti dei ristori e di tutto quello che costa allo Stato e al governo, quindi a noi, mantenere le partite IVA, i ristoratori, i pubblicani e così via, facendo questa operazione risparmierebbero almeno il 900% di quello che hanno dato finora. L'aiuto che diamo al governo? Questa qui secondo te potrebbe essere un'idea? È un'idea, bisogna capire adesso chi potrà analizzarla e portarla avanti, comunque è un'idea. No, noi siamo venuti qua e ci hanno detto che facevano il tampone, ma io pensavo quello al dito che avevo già fatto, invece quello tramite via... È molto piacevole, è piacevole poter condividere anche insieme agli amici unici unici, un po' di momenti di libertà, ecco, sì, però sì. Hanno notificato 5 giorni di chiusura da stasera fino a venerdì. Te lo aspettavi? Lo sapevo già. E multa di quanto ti hanno fatto? 400 euro. Ne è valsa la pena comunque, dici? Ne è valsa la pena, ma sappiamo bene che in Italia ormai bisogna solo fare altro, non lavorare onestamente. Come l'hanno motivata? Tu hai detto che ho fatto i tamponi... L'hanno motivata perché il DPCM dice che non possiamo stare aperti, quindi per loro quella è la legge. Comunque i miei avvocati si occuperanno poi per il resto. Comunque i miei avvocati si occuperanno poi per il resto.